Quest'anno è il film delle feste. Paola, mi vuoi sposare? Arriva a bordo di una scopa. Maestro Paola, la Befana? Si può sapere chi sei? Perché non vai a rompere a Babbo Natale? Ma se un tuo studente userebbe... Usasse. Dai, un minimo di consecucio. Paola Cortellesi è... La Befana viene di notte. Potevi aspettare 10 minuti. Dal 27 dicembre al cinema. La Befana viene di notte.